Siamo col coach Lorenzo Passa. Nel processo di crescita della squadra ripartiamo dagli ultimi dieci minuti contro Piacenza. Dove dobbiamo migliorare e lavorare per non incappare in questo blackout anche con la prima di campionato contro Reggio Calabria? Dobbiamo migliorare in tantissime cose. In realtà a me piace pensare di ripartire dai primi 30 minuti con Piacenza che sono stati 30 minuti in cui onestamente abbiamo espresso buonissime cose. Gli ultimi dieci minuti con Piacenza è stato un momento di calo di tensione probabilmente anche legato al fattore risultato che è qualcosa che sicuramente non deve succedere ma sono certo che sarà qualcosa da cui abbiamo imparato subito e che non e che non si ripeterà. È chiaro che momenti bui della partita o durante le partite torneranno ma ripeto sono convinto che la cosa che ci interessa sono quello che abbiamo espresso nei primi nei primi 30 minuti che onestamente sono un ulteriore passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto la settimana prima. Che voto dà la pre-season del D'Artona Basket? Non faccio il professore quindi dare un voto faccio fatica a darlo. Di certo la cosa positiva è che è stato un continuo andare in crescendo per cui io sono assolutamente soddisfatto di quanto ho fatto. chiaramente siamo consapevoli che come ho già detto più volte la nostra pre-season in realtà non finisce qui la nostra pre-season continua. Ci sono un sacco di cose da aggiustare, da mettere a posto ancora tante cose da aggiungere ma sicuramente il fatto che sia stato un crescendo costante qualche cosa che ci dà grande fiducia anche per quelli che possono essere poi i margini di miglioramento di questa squadra. Sabato sarà il suo esordio come capo allenatore in Serie A2. Come sono le sue emozioni? Come vive questa attesa? La vivo con grande emozione ma in realtà come vivo la settimana? Come vivo questo mestiere? Chiaramente è un esordio come prima c'è stato un esordio in un'altra categoria come prima c'è stato un esordio quando allenavo i bambini quindi chiaramente adesso cambia il livello ma io penso che la palla canestro sia emozione e vada vissuta giorno dopo giorno con emozione e una delle nostre cose che dobbiamo saper fare è controllare e incanalare queste emozioni quindi diciamo che c'è grande attesa, grande voglia di cominciare a giocare partite che contano due punti poi il mio esordio, l'esordio di altri, questo viene in secondo piano, quello che ci piace e che finalmente dopo sei settimane e mezza di lavoro adesso conta qualcosa.